Il motivo per cui gli Stratovarius hanno suonato poco è a causa del fatto che hanno perso i voli. Quindi sono arrivati qui, come avete visto tutti, 5 minuti prima di iniziare. Ok? Questo è il motivo. Un attimo, un attimo. I Maiden, come sapete, inizieranno alle 9. Quindi stiamo calmi e divertiamoci. Ok? Grazie.